metti giù a covacciare sei su che di camera Dani? dai questo è con i tasti resti meraviglia questo qua è veramente bello sei fiera Daniela? sì alla grande bellissimo hai ragione ci vuole un po' hai passaggini con le rocce ma sai che hai piaciuto anche questo pezzo nel bosco bello wow crei valeva la pena veramente guarda mi hai fatto una variante figa sì sto pezzo nel bosco così ce ne fossero i chilometri sì perché poi è freeride la fai alla velocità giusta ma ti diverti qualche passaggio tecnico alla fine controlla ed è meno pericoloso che fare dei flow a 40 all'ora questo qua devi controllare la bici da cordissimo bellissimo guarda questo è un gran giro questo è grande bene allora guarda